Ehi bella gente! Il Doc non vi sente! I fenomeni? Dove sono i fenomeni? Giuntoli non arriva, non avete soldi, ma cosa viene a fare giuntoli in una squadra scandalosa come la vostra? Ma tutte fake news? Com'è? Com'è la storia? E uno è arrivato. E il Doc l'ha detto, poi. Il Doc ha detto, prima di tutti, Milinkovic Savic è già della Juve, c'è il video, c'è il video, l'ho fatto a gennaio e l'ho rifatto un mese fa. E mi percula avanti. Primo obiettivo stagionale di Giuntoli, ve lo dice il Doc, Sergei Milinkovic Savic. Comunque, benvenuto Cristiano Giuntoli, Juventino vero, tutto trasmesso dal padre, come dice lui, e io gli credo, non come Bremer il primo anno che dice, eh c'è il cane bianco-nero, no. Felice di averti qua con noi, non vedo l'ora che inizia questa cosa, però ho un favore da chiederti. Cristiano, solo tu, solo tu puoi portarmi via quella merda di allenatore, solo tu, te lo chiedo per favore. Voce della Doc, iscrivetevi e fino alla fine, forza Juve e allegri, sei una merda, una merda!